Un Mancini dei riuscito a metà perché mancavano i tifosi del Foggia, il divieto della trasferta ai tifosi rossoneri è stata un po' la macchia nera di questa giornata meravigliosa in cui hanno ricordato il grande portiere nato a Matera e che ha vestito le maglie della squadra bianca-azzurra e partito proprio dalla gradinata a cui è stata dedicata la gradinata Franco Mancini. Da oggi in realtà è peccato che mancavano i tifosi e per solidarietà i tifosi del Foggia non sono entrati nemmeno i tifosi del Matera, un bel gesto di fratellanza perché non c'erano le condizioni per evitare la trasferta, fare due tifoserie non c'è mai stato problema né aste. Per quanto riguarda il discorso tecnico giusto anche il risultato 1-1 fra Matera e Foggia, nel primo tempo hanno giocato bene entrambe poi si sono un po' accontentate entrambe nel secondo tempo e questo problema fisico del Matera è ancora uscito in maniera palese, la squadra gioca ancora 50 minuti, problemi per Marcello Chiricalo che esordisce con una non vittoria, non con una sconfitta che sono due cose molto differenti, c'è tanto da lavorare.